Eccoci qui, riprende la preparazione della Domus Bet Catania Beat Soccer, ricominciamo oppure conquistiamola, cita l'hashtag di questa stagione, conquistiamola perché il primo grande avvenimento dal 23 maggio al 29 maggio sarà l'Euro Winner Cup, ancora una volta confermata Catania come capitale internazionale del beat soccer e accanto a noi la splendida Domus Bet Arena Beach Stadium che è in fase di completamento. Alle mie spalle la Domus Bet Catania, i giocatori si sono radunati sotto la guida Sirio Silvestri, allenatore in seconda, giorno 14 arriverà Luca Della Negra che poi continuerà il lavoro che sta per essere portato avanti dal suo secondo. Così come sta lavorando alla testa e soprattutto alle gambe e al fisico il prof Pricoco. Test atletici per i ragazzi ma soprattutto esplosività e velocità in vista proprio dell'Euro Winner Cup. Insomma i tempi si stringono, abbiamo ascoltato proprio Sirio Silvestri che ha parlato di questo inizio della stagione, di questo inizio di preparazione con la grande conferma, quella del capitano Platania. Sirio Silvestri, primo giorno di lavoro, ricomincia questa avventura della Domus Bet Catania, al nostro fianco c'è questa splendida arena che sta per essere completata, i ragazzi già sono al lavoro, tra poco arriveranno gli altri alla spicciolata perché del Mestre e soprattutto i sudamericani si uniranno tra pochi giorni con il resto del gruppo. Sì, ci siamo. Un altro anno qui sempre col Catania B-Solcer ci stiamo preparando per la Champions ma anche per le altre competizioni che verranno prossimamente, quelle della Coppa Italia, del campionato, della Supercoppa e delle fasi finali in base effettivamente alla posizione di classifica che otterremo in campionato. Ecco, le direttive di Luca della Negra che arriverà a Catania giorno 14 quindi per adesso tu da buon allenatore in seconda stai guidando assieme al prof. Pricoco il gruppo, la presenza anche del capitano Platania che ha confermato il rapporto con la società Etneo ed è un altro tassello che chiude tutto, chiude il cerchio. Sì, la squadra è abbastanza completa, è abbastanza competitiva, non che l'anno scorso non era così, solo che quest'anno abbiamo mirato non tanto più alla qualità tecnica, tattica perché quello già ce l'abbiamo con il lavoro svolto dal mister Luca della Negra e dal preparatore Pricoco. Abbiamo deciso comunque di mettere competizione e aggiungere quel qualcosa in più che magari l'anno scorso nelle fasi quelle clou è venuto meno. E quindi portare la rosa da 12 a 14 elementi vuol dire che tra di loro debbano, tra virgolette, scannarsi nel senso buono, nel senso della competizione, anche per evitare eventualmente problemi legati a infortuni o legati a qualsiasi altra situazione di carattere fisico, tecnica, tattica. Sono tutti importanti, i nuovi arrivati, le conferme, ma parlando dei nuovi arrivati abbiamo visto Corosiniti, tassello fondamentale della Nazionale Italiana, il capitano della Nazionale Italiana, Paterniti, il portiere che sarà lì pronto a far rifiatare del Messe ma con un grande avvenire. E se andiamo a vedere anche tutti gli altri, i catanesi come Randis e Chiavaro, anche loro molto ma molto importanti. Secondo te c'è qualcuno che può fare la differenza di questi che arrivano? Ma io sono sempre del parere tutti utili ma nessuno indispensabile. Fermo restando che arriva anche Jordan, quindi che si unirà tra poco al gruppo. Ovvio, sarà tutta gente che non solo ci darà una mano dal punto di vista tecnico, tattico, perché comunque conosciamo l'abilità. Sono state scelte mirate, mirate e volute dalla società. Corosiniti, Chiavaro, Randis, Jordan non fanno altro che completare quello che magari mancava l'anno scorso. Quindi sicuramente loro ci daranno una grossa mano. Ora, il fatto che magari questi possano fare la differenza, io penso che ognuno di loro possa fare la differenza nel momento in cui vengono chiamati in causa. L'esperanza è che comunque la facciamo da protagonisti come è stato l'anno scorso, perché noi comunque dobbiamo difendere un secondo posto. Siamo vice campioni d'Europa e le squadre comunque ci temono. Grazie a tutti.